Non è niente di finito, abbiamo fatto errori e dobbiamo trovare la strada giusta perché così non si può andare avanti, nel senso che con questo roster il peso aspetta di più e noi dobbiamo dare di più. Il focus e la concentrazione è di cercare di fare il meglio in poco tempo, cercare di dare le indicazioni giuste ai ragazzi, cercare di con lo staff preparare bene la partita di domenica con quel tempo che è e il focus sarà molto su di noi, sappiamo che loro sono attrezzati, vengono da una persa un po' recambolesca, nel senso che erano avanti in primo tempo anche di tanto, però contro un'altra signora squadra come Cantù sono uscite con una L, insomma con una partita persa, adesso noi dobbiamo avere il focus su di noi, abbiamo tante cose in noi stessi da vedere e non voglio caricare i giocatori di pensare troppo a Verona, sappiamo che hanno la nostra di tutto rispetto, Jacopo Pullen è copia di emergere Canon e più batteria di italiani con qualità e esperienza, c'è tutto insomma, e per questo non ci facciamo troppo alla testa già prima, abbiamo già troppi problemi nostri da risolvere, insomma, per tirare fuori il massimo e cercheremo di essere con un po' la mente sgombera perché più pensiamo secondo me in questo momento il peggio è.